Carissimi studentesse e studenti, genitori, docenti, assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici, in occasione del Santo Natale desidero rivolgere gli auguri più sinceri a tutti voi che, con passione e dedizione di impegno, contribuite alla crescita della nostra comunità scolastica. Stiamo per vivere un Natale diverso, un momento che resterà nella storia come tempo della riflessione e della meditazione, in un contesto che ci accomuna tutti nel dolore e nello smarrimento. Il percorso di isolamento e di chiusura dei giorni trascorsi e che ci aspetta sembra un lungo inverno fatto di nostalgia e ricordi, una strada buia e priva di luce. Ci interroghiamo oggi sul senso degli eventi che hanno destabilizzato l'umanità intera, disorientata dal male pandemico e dalla grave crisi economica in atto. Un male che sembrava lontano ha travolto la storia personale dei nostri cari, facendo vacillare le certezze indistruttibili a cui eravamo ancorati tenacemente, nella convinzione che l'egoismo e l'individualismo fossero le forme vincenti del saper vivere. Dalla tragedia della pandemia apprendiamo un messaggio forte ed intenso. È necessario cercare il senso autentico dell'esistenza, che forse prima non abbiamo compreso, assorti nelle cose superfule ed inutili. Questa essenza è l'altro e solo nell'esperienza della condivisione riusciremo a manifestare l'aspetto più vero della relazione educativa e sociale. La confronto ed il dialogo con chi incontriamo ogni giorno. Voi, studenti, nel rapporto con gli insegnanti. Voi, insegnanti, nella sensibile cura degli studenti. Voi, genitori, verso i figli in una forma di reciproca accoglienza. Tutti dediti ad un impegno di riscoperta di se stessi e degli altri, per rendere possibile la grande sfida al male, fisico o interiore. Il disagio e la povertà dilagante, problemi affiorati come conseguenza del diffondersi del Covid-19, non possono lasciarci indifferenti. Ed è per tale motivo che l'istituzione scolastica sta manifestando sensibilità e vicinanza alle famiglie tutte, perché non siano lasciate da sole ad affrontare le necessità sovraggiunte. Il messaggio spirituale del Natale e di significati sottesi all'evento salvifico ci ricordano la centralità della famiglia. Guardando all'esempio della famiglia di Nazareth, da cui attingiamo il suo valore fondamentale nella costruzione della società umana. L'invito a cogliere il dono della vita ed il messaggio di una rinascita umana ed interiore, nel tentativo di dare una risposta all'angoscia dei giorni del dolore. Il messaggio che ci chiama al mistero della donazione e della fratellanza quest'anno ha un valore più profondo ed universale, perché si estende a tutta l'umanità, al di là delle culture, dei linguaggi e dello spazio geografico. È un inno alla speranza e alla rinascita, che deve annullare le presunte differenze in nome di un traguardo comune. La ricostruzione di una realtà devastata e deturpata, come da una guerra che lascia segni desolanti. Il rendersi testimoni di un progetto educativo ed umano in senso lato, che sia di solidarietà e di condivisione, è il compito a cui siamo chiamati nella futura ricostruzione, in modo ancora più determinato ed incisivo, nell'intento di dar voce a chi soffre in silenzio, per le fasce sociali più deboli, per i giovani che stanno vivendo con sofferenza l'isolamento di questi giorni tristi. Carissimi studentesse e studenti, l'orizzonte che si apre davanti a noi è un sentiero difficile da percorrere, incerto e segnato da problematicità. È uno scenario complesso, a cui cercheremo di dare delle risposte insieme, rafforzati dalla speranza di un domani dove si possano ritrovare gli equilibri di sempre e la gioia che scaturisce dall'essere nei luoghi che amiamo, dal partecipare alla progettualità comune nello stare fianco a fianco. L'ascolto e la cura non potranno essere tralasciati in un contesto dove tutti ci sentiamo provati. Non è stato facile per la scuola gestire le difficoltà nell'articolazione della didattica a distanza, ma posso dire con sincerità che tutti, proprio tutti, sono stati all'altezza del compito, con competenza e professionalità. Dando prova quotidiana di senso, di responsabilità e serietà. Ai docenti e a tutto il personale ATA giunga l'augurio di vivere la serenità del Santo Natale e di rafforzare la capacità di resilienza perché la nostra scuola attinga la forza necessaria per poter ridefinire tempi e modi dell'organizzazione scolastica. A tutti voi, studentesse e studenti, e alle vostre famiglie, i miei auguri più affettuosi per un santo Natale ed un anno nuovo di pace e di solidarietà, come ricorda Madre Teresa di Calcutta nei versi ispirati al valore della carità e dell'amore fraterno. È Natale. È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale. È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società. È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. E con questi versi di Madre Teresa di Calcutta, che io vi abbraccio e vi auguro un felice inizio di anno nuovo e un sereno Natale a voi e alle vostre famiglie. Grazie. 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 Grazie.